Buongiorno e benvenuta alla nuova puntata della Priscatole. Questa è la tredicesima e ultima puntata della stagione. Abbiamo percorso tutta la primavera da marzo fino arrivare oramai alla metà di giugno e quindi la Priscatole va in vacanza e come vedi già ha iniziato a ustionarsi per tempo. Mi raccomando seguici fino in fondo perché questa puntata avremo uno sconto speciale. Bene andiamo a vedere subito qual è il primo articolo di questa settimana ed è un sandalo. Ecco questo modello vedi caratterizzato da queste fascette incrociate che sono in pelle nera o con queste micro borchie che danno estremamente luce da suola è di gomma e all'interno è in pelle. Piena estate piena estate vuol dire sabò e vuol dire una cosa del genere. Tacco 50 bello grosso fasciato in pelle e la tomaia che abbraccia bene il piede per evitare che scappi il sabò e le borchie che gli danno sicuramente grande carattere. Suola in cuoio. Terzo articolo per una serata grintosa. Uscire in un locale aperitivo. Ecco questo è un sabò a fascia ampia in pelle. Nota la differenza tra il tacco che è in pelle nera e il plateau che è fasciato in cuoio. L'altezza di 11 centimetri, plateau 3, quindi la camminata è di 8 centimetri. E dopo la fiera del nero tutti articoli neri non poteva mancare una borsa abbinata? No, l'abbiamo messa bianca. Eccola qua. È un secchiello splendido direi. È composto di borchi e pietre. Ha anche la tracolla con la catena ed è un raggio di luce nella notte. Sei ancora qui con noi? Bene allora adesso scoprerai il bonus. Questa settimana anziché il solito 25 per cento abbiamo lo sconto del 30 per cento che andiamo adesso a vedere nel particolare. Partiamo dal sandolo con i listini costa 179 euro e per questa settimana lo puoi trovare a 125. Il sabò con le borchie costa 149 euro e per questa settimana lo puoi trovare a 104 euro. Il sabò in pelle con il tacco costa 169 euro e per questa settimana lo puoi avere a 118 euro. Il secchiello bianco costa 229 euro e per questa settimana lo puoi avere a 159 euro. Come al solito ti ricordo che le offerte sono valide fino a sabato 16 giugno. Ora non mi resta che salutarti, ringraziarti di averci seguito per tutta questa stagione e ci vediamo a settembre con la nuova stagione della Priscatele.